Vai, prego da... Nancia Vanessa, ha fatto sentire il suono, non era ancora mutata, mannaggia Vanessa. Il tipo è fermo là. Non so che fa, se mi passano i secondi... Lo killo. Se mi passano i secondi lo killo. Eh, sì, sì, quella è la mia tecnica. Ora se passano i secondi lo killo pure questo, guarda. FK, che ne so. Cinque. Ciao, ciao. Oh, ottimo, ho chiuso anche lì. Ottimo, davvero ottimo. Dai, RFK, cazzo. Vabbè, eh, mi disp. Mochillo pure questo, vediamo se ce la faccio. Ho chiuso. Ragazzi, era praticamente in caffetteria. Io ci stavo tornando da... Chi l'ha trovato? Io, Meli. Ok, io di te mi fido. Grazie. Raga, dobbiamo votare. Ok, adesso non mi fido più a lei. Ma perché? Scusa. Comunque io... Io invece mi fido di... Ciccia Gamer. Ecco, esatto, esatto. Perché, cioè, nel senso... Nel senso siamo stati parecchie volte insieme, abbiamo fatto quasi lo stesso percorso. Eh, sì, sì. Eh, siete due, infatti. Siamo io e tu, esatto. Sì, sì, siamo io e lei. Ragazzi, io stavo a sinistra... Scusa. Ah, no, 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 sono mutato. Ah, scusate, ero mutato. Con una line admin ed è salita la siccetta verde e potete dire lo stesso, lei, di me. No, invece mi stavo sempre, con tutto il tempo, con... No, non è vero. Volevo trollare. Ok. Mi mi fido di finanza. Che l'ha detto? Che l'ha detto sul King. Che, secondo me... Che, so... Stavo da soli e l'ho ammazzato. Però, se stava anche il cooldown, io ne vedo tre morti, sinceramente. Dobbiamo... Dobbiamo cliccare qualcuno, sennò vincono. Sì, e io ne vedo tre morti, sinceramente. Quindi qualcuno... Cioè, stava in... Il cooldown che abbiamo incontrato. E io stavo a sinistra, sono a del tale, il viola. Stavo a reattore e stavo completamente da solo. Non so, quindi non... Allora, io stavo da navigation con finanza e Vanessa. E poi sono andato verso caffetteria, neanche tempo di arrivacce, che... Non le portano. Quindi caffetteria? Sì, sì. No, manco ci sono arrivato. Ci sono arrivata la porta. Vicino al pulsante per l'emergenza. Ok. Mentre che zone stavate, comunque? Perché... Invece chi manca? Ciccio Gamer, dove stava? Io stavo. Stavo praticamente dietro di me. Io sono andato prima in weapon, poi in navigation a fare la task. Con la del download, se non mi sbaglio. Sì, sì, ci crediamo. Se me le non me la dite giusta, regà. Ma... L'ultimo fa vate detto, vi trastavate perché stavate sempre insieme. L'avevo detto... Sì, sì. No, aspetta, io in admin sono stato insieme a lei, io tutto il giro l'ho fatto da solo. Io sono andato in admin e c'era lei. E allora perché vi fidavate la vicenda? Ma non è vero, ti ho incontrato... Ti ho incontrato pure in navigation, ti ho incontrato. No, vai solo facendo la task. Raga, votate i melli, votate i melli. Ma come vi permettete? Eh, si deve votare, in ogni caso si deve votare, raga, l'abbia persa. No, non si deve votare. No, il giro l'ho... E a caso, è andato al sentimento. No, vabbè. Non andiamo a votare, raga. Secondo me abbiamo sbagliato il viola. No, no, per forza, a lei, dai. No. Oh, su, cade. No, no, no. Guarda ora che faccio. Mi blocco qua. Proviamo il sabotaggio appena posso. Col cazzo gli faccio chiamare l'emergenza. Easy win! Easy win! Quanto mi manca? 5 secondi. Non tanto. Easy win! Server no. Easy win! Tè! Easy win! Ebra, ebra!